Un saluto e ben ritrovati come state, buon sabato, buon weekend, buon campionato, ieri abbiamo avuto già un assaggio, iscrivetevi qui sul logo AL, lasciate un bel like e commentate numerosi con il vostro punto di vista. Incredibile quello che sta accadendo all'Inter, che è arrivata già a 8 sconfitte, fortunatamente per l'Inter hanno fatto pochi pareggi e poi per il resto tante vittorie, altrimenti la classifica sarebbe molto diversa. Inter che può essere scavalcata oggi dalla Lazio, raggiunta poi da Milan e Rome, quindi ritrovarsi potenzialmente anche quarta in classifica, ricordando l'asterisco della Juventus, che potrebbe vedersi restituiti i punti. C'è un Inter clamorosamente a due facce, in casa è un ruolo compressore, appena 6 gol subiti, in trasferta invece è una squadra molto molto provinciale. Pensate che in trasferta l'Inter, oltre alle tante sconfitte, prende in pratica sempre gol, mi sono segnato dei numeri, in casa ha la seconda miglior difesa, 6 reti subiti e seconda soltanto alla Roma. In trasferta le peggiori difese sono Salernitana e Cremonese con 26 reti, poi c'è l'Inter a 24, dato incredibile da rintracciare l'origine ovviamente in un fattore psicologico. Inter che fa delle belle partite e delle bruttissime contro squadre poi che sono più abbordabili, non che abbia giocato male, ma ha sprecato davvero tanto e la determinazione è un fattore determinante oggi nel calcio, che deve essere trasmessa anche dal tecnico. C'è poi il fattore rigori, il primo l'ha battuto Lautaro, il secondo Lukaku, Inzaghi insomma lì ha dimostrato mezzo stampa di barancolare un po' nel buio, invece ci dovrebbe essere chiarezza anche su chi è il primo rigorista e su chi è il secondo senza si vede di volta in volta. Questo lascia l'idea un po' di pressapochismo che una grande squadra non dovrebbe avere. Vediamo cosa succede poi in settimana la gara col Porto, poi la Juventus, in questa settimana Inzaghi si gioca le residue e possibilità di restare, visto che come abbiamo detto insomma è già stato messo in discussione dal mondo Inter. Spogliatoio che non lo riconosce come guida e poi società che ha capito l'andazzo. Ditemi che cosa ne pensate, ripeto un andamento incredibile, una differenza clamorosa tra casa e trasferta. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate. Buon weekend!